Mundo Vacanze si appresta a chiudere il 2015 con una serie di esami che hanno caratterizzato la giornata di oggi, tre nel corso della mattinata, uno oggi pomeriggio. Sì, oggi abbiamo fatto quattro esami relativamente a quattro corsi e qui abbiamo i relativi decreti per quanto riguarda questi esami. Sono quattro corsi che abbiamo finito nel periodo settembre-ottobre, sempre relativi alla stagione 2014-2015. Stamattina sono stati fatti tre esami, un esame per un corso di acconciatore con 20 corsisti, un esame per un corso di estetista per 20 corsisti e un esame per un corso di pizzaiolo per 20 corsisti. Pomeriggio stiamo facendo in questo momento un esame per 20 corsisti di Osa. Di fatto oggi abbiamo decretato e qualificato 80 persone per relativi quattro corsi di formazione. Si chiude questo anno solare 2015 con questi esami, altri ne avremo da fare nel mese di gennaio, ma questa è dimostrazione del fatto che abbiamo fatto un buon lavoro nel territorio in tutte le quattordici sedi che abbiamo nella provincia di Agrigento e questo ha premiato chi fa la formazione in maniera seria, chi fa la formazione in maniera territoriale e chi lega la formazione al lavoro. Questo l'agenda lo ha capito, questo l'agenda lo ha capito e quindi ci premia aderendo ai nostri corsi in tutte le sedi che abbiamo, ma non a Canicattima, a Agrigento, a Palermo del Monte Caro, a Cammo Bello Delicata e in tutte le altre sedi che abbiamo nella provincia di Agrigento. Vogliamo tracciare un po' un bilancio di questo 2015 che ormai volge al termine, direttore? Un 2015 che ci vede leader nel territorio della provincia di Agrigento, ma soprattutto ci vede con delle aperture in quasi tutta la Sicilia, perché il gruppo ERAP, a cui fa capo Mondovacanze e SRL, ha sedi in tutte le nuove province della Sicilia. Ovviamente la sede centrale Canicattia è una cabina di regia per tutte le aperture fatte nella regione Sicilia. Ripeto, da 20 anni a fare formazione, da 20 anni leader nel territorio e questo ovviamente l'agenda lo va a vedere, a sondare e premia ovviamente chi fa formazione in maniera seria.